Durante un discorso di sette minuti alla nonna edizione delle conferenze di Estoril, la first lady ucraina, Olena Zelenska, ha sottolineato che l'evento più doloroso della guerra, innescata dall'invasione russa, è la sistematica e impunita deportazione dei bambini ucraini in Russia. Oltre a criticare l'inazione della comunità internazionale, Zelenska ha approfittato del motto delle conferenze di Estoril, tempo per ripensare, per sottolineare che un tempo di riflessione troppo lungo può portare a dei pericoli e che la discussione a un certo punto deve essere tradotta ai risultati tangibili. Come si investiamo in discusse di oggi, facciamocici sui risultati tangibili. Questo non è solo la Ucraina, è solo la sicurezza collettiva della nostra comunità globale. No, il crimine è troppo distante da concernere noi tutti. ogni atto di violenza rappresenta una sfida per la nostra comunità internazionale. Le azioni che abbiamo chiesto di prendere oggi faranno formare il nostro futuroso collettivo. Se noi commettiamo a la azioni, possiamo portare la pazza più vicino e abitare i principali della coesistenza in fronte della situazione. Con due guerras in cura, questo primo giorno, nelle conferenze di Estoril, si è stato marato per discursi di appello alla azione e alla cooperazione internazionale per riporre la pazza nella Ucraina, ma anche nel Medio Oriente. Joana Moron Carvalho, per la Euronews, in Lisboa. Grazie a tutti.